Buongiorno, io ringrazio gli organizzatori del Festival di Filosofia che hanno avuto ancora una volta la bontà di invitarmi qui da voi, ringrazio l'assessore per la presentazione, ringrazio soprattutto i giovani che sono venuti qui anche da lontano, che mi fa sempre piacere incontrare, anche se ogni volta la sensazione è che il gap di età fra me e loro aumenta. Chissà perché i ragazzi rimangono sempre giovani e noi diventiamo vecchi, questa è la sensazione che non si può fare a meno di provare quando si hanno questi incontri. Sì, parlare di comunanza o di comunità coinonia nel pensiero greco significa inevitabilmente parlare di comunità politica, cioè di quella società di uomini liberi che decidono insieme del proprio futuro e del proprio modo di vivere che va sotto il nome a tutti i noto di società della polis. Aristotele diceva che le altre forme di aggregazione umana come la famiglia o le aggregazioni economiche hanno come scopo la sopravvivenza e la riproduzione, ma soltanto la comunità politica, la polis, ha come finalità propria quella non soltanto di sopravvivere ma di vivere bene, di conferire valore alla vita. Soltanto nel contesto della comunità politica questo può accadere, soltanto in questo contesto si può vivere una vita degna di essere vissuta, fatta di deliberazioni razionali, di libere discussioni, di esercizi delle virtù pubbliche che fanno di un uomo un cittadino degno di rispetto e di ammirazione fra i suoi pari. Dunque, parlare di comunità per i greci significa parlare di comunità politica. Pensate che Aristotele quando parla di animali che noi chiamiamo sociali, come le formiche o le api, li chiama animali politici, zoopolitica, esattamente come l'uomo è chiamato un animale politico. Quindi l'idea della comunità è un'idea che è strettamente connessa alla forma politica della comunità. Per parlare dunque nel mondo greco, della cultura greca, di comunità politica è inevitabile che noi interpelliamo Platone ed Aristotele che sono i padri fondatori del pensiero politico dell'Occidente. Bisogna subito dire una cosa, Platone e Aristotele non formano una tradizione cumulativa, una sequenza temporale che possa venire semplicemente disposta nella sequenza prima-dopo, prima Platone e poi Aristotele. C'è, ci sono ampi margini di consenso fra questi due grandi filosofi, fra il maestro e l'allievo, ma intorno ai temi di cui noi ci stiamo occupando essi rappresentano piuttosto un'alternativa teorica radicale, che piuttosto che farceli pensare nella forma prima l'uno poi l'altro, ce li dovrebbe far pensare nella forma o l'uno o l'altro. Qual è questa alternativa? Aristotele pensava che la comunità politica fosse una conseguenza naturale della essenza stessa dell'uomo. L'uomo è un animale politico, noi diremmo ha nel suo codice, nel suo DNA l'appartenenza a una comunità politica, e quindi la città, la polis, è un prodotto naturale dell'essenza dell'uomo, così come una quercia è il prodotto naturale di un seme di quercia. Da un seme di quercia nasce una quercia e dagli uomini nasce la comunità politica. Per natura l'uomo dà luogo prima all'aggregazione riproduttiva, che è la famiglia, per natura le famiglie si aggregano a loro volte in quella unità superiore, che è la città, e qui la vita umana può conseguire la sua piena fioritura. A questa sequenza naturale data si aggiunge poi la tradizione. Nel corso storico temporale della loro vita associata, secondo Aristotele, gli uomini hanno via via sviluppato un insieme di valori, di credenze condivise, di leggi, di istituzioni, che nel loro insieme garantiscono la prosperità e la continuità della polis. Sono forme di vita comunitaria che possono venire certamente perfezionate, migliorate, abbellite, ma che nel loro insieme formano il quadro stabile e Aristotele pensa definitivo della comunità politica umana. Non si tratta di inventare niente di nuovo, non si tratta di progettare alternative radicali. Ecco, al contrario, per Platone la comunità politica non è mai davvero esistita. È un'illusione che i greci hanno coltivato, ma che come vedremo è fallita, secondo Platone. La comunità politica, secondo Platone, invece deve essere progettata e costruita come se fosse un manufatto. Qui passiamo, diciamo, da una metafora del prodotto naturale, della crescita naturale, che è quella aristotelica, dal seme alla quercia, invece alla metafora di una costruzione artificiale. C'è un materiale su cui lavorare, che è la vita umana grezza, così come ci è consegnata dalla natura e dalla storia. C'è un progetto da realizzare, quello che è modellato dalla grande filosofia politica che Platone si propone di costruire. E ci devono essere degli artigiani capaci di trasferire il progetto dentro quel materiale. Di chi si tratti, in questo caso, lo vedremo più avanti. Voi vedete quindi che per Platone la questione è una questione di pensare la comunità politica come un prodotto artificiale che va costruito perché non c'è e la natura non ce lo dà. Vedremo anche le ragioni per cui la natura non ce lo dà. Da un lato Aristotele è un modello che sarà seguito anche nei tempi moderni dalle correnti che si definiscono comunitarie, che quindi si riferiscono ai valori della tradizione, ai valori spesso della piccola comunità rispetto alla grande comunità dello Stato. Soprattutto negli Stati Uniti queste correnti comunitarie sono state forti e significative. E invece mettersi dal punto di vista di Platone significa, qui è buona e valida la definizione di un aspro critico di Platone moderno come Sir Karl Popper, che parla di ingegneria sociale utopica. Ingegneria sociale utopica vuol dire proprio proporsi di costruire una società secondo un modello di perfezionabilità che viene definito come utopico e che dovrebbe contenere i valori che vanno realizzati e che la natura e la tradizione non ci consegnano. Perché secondo Platone la comunità politica non esiste e va costruita? Platone riflette su una crisi, una crisi di civiltà del mondo greco e in particolare riflette sulla lezione di quello che Tucidi del grande storico del V secolo definì un maestro violento. Questo maestro violento era per Tucidide la guerra del Peloponneso, cioè la guerra che contrappose, come voi probabilmente ricordate, Atene e tutta la parte del mondo greco alleata o egemonizzata da Atene a Sparta e gli alleati di Sparta. Grosso modo un conflitto tra città d'orientamento democratico e città d'orientamento oligarchico anche se poi la partizione non è così semplice. Ma la guerra del Peloponneso è stato un maestro violento perché ha mostrato un'altra cosa, che è una guerra tra pole e scontrapposte è conseguita e si è accompagnata immediatamente la guerra civile all'interno delle città. Cioè non soltanto il mondo greco si è spaccato in due blocchi contrapposti ma anche ognuna delle sue città si è spaccata in campi contrapposti e il campo dei democratici è quello degli oligarchici, il campo dei ricchi e quello dei poveri. Questo mostra secondo Platone che i greci avevano creduto di aver costruito una polis, una comunità politica omogenea in cui la condizione di cittadino era prevalente rispetto alla condizione sociale di ricco o di povero, rispetto agli interessi privati dei clan, dei nuclei familiari, delle aggregazioni appunto private. Avevano creduto che essere ateniese fosse ciò che identificava in modo fondamentale e primario la persona indipendentemente dal suo censo, dalla sua collocazione economica, sociale e così via. Avevano creduto di aver realizzato questo ma non è vero, è bastato che la guerra inclinasse questa superficie diciamo di coesione sociale, questa pellicola sottile di coesione sociale per vedere che non c'era una forma di identificazione forte come quella di Atenese o Corinzi o Corcirese, ma si riproducevano immediatamente le forme di identificazione arcaiche. I ricchi contro i poveri, questo clan di famiglie contro quell'altro clan di famiglie, questo gruppo di interesse contro quell'altro gruppo di interesse. Allora, secondo Platone, l'esperienza storica dei greci che si credeva culminata in modo soddisfacente nell'Opolis era un'esperienza in realtà fallita. Occorreva allora costruirla questa comunità politica. Occorreva che da questa consapevolezza, da questa lezione del maestro violento si ricominciasse, si ripartisse per costruire ciò che la storia della cultura greca, della civiltà greca, non aveva in realtà ottenuto. E da che cosa bisognava partire? Secondo Platone, ciò che si oppone alla unità e alla coesione della comunità politica, al fatto che essere ateniese venga prima e al posto di altre forme di identità, ciò che si oppone a questo è essenzialmente un dato di fatto. La privatezza degli interessi e la privatezza degli affetti. finché gli individui sono titolari di un patrimonio e di una sfera affettiva private, le due cose patrimonio e sfera affettiva nella società greca tendono a coincidere in quella struttura che si chiama oikos, oikos è sia l'aggregazione familiare in senso esteso sia la dimensione patrimoniale privata, finché c'è questo, finché rimane questa privatezza, la comunità politica non si potrà mai realizzare o sarà soltanto una specie di superficie di illusione ideologica che cela nell'altro. Platone scrive nelle leggi, riassumendo il progetto appunto di questa ingegneria sociale utopica che aveva formulato nella Repubblica che perché la comunità politica esiste davvero occorre che, cito, siano comuni le donne, comuni i figli e ogni avere, che con ogni mezzo tutto ciò che si definisce privato venga estirpato dalla vita dell'uomo, e per quanto possibile ci si sforzi di rendere collettivo anche ciò che la natura ha fatto a proprietà individuale, e, per esempio, che gli occhi, le orecchie e le mani abbiano la sensazione di vedere insieme, udire insieme, agire insieme, e concordemente tutti insieme quanto più possano diano l'approvazione del biasimo in quanto delle stesse cose sappiano la gioia e soffrono il dolore. Non ci può essere una comunità, aggiunge Platone, quando i membri del gruppo dirigente o del gruppo di comando, cito, spezzano la città parlando del mio non in riferimento alla stessa cosa, ma cose diverse l'uno dall'altro, sicché questo trascinerà nella propria casa ciò di cui ha potuto impadronirsi, quello in una casa diversa e sua propria. insomma, quando i membri del gruppo dirigente, del gruppo di comando, fanno prevalere la dimensione della privatezza rispetto alla dimensione della comunità, la città si spezza e nasce la crisi di cui Platone è testimone e critico. Dunque, l'unificazione della polis richiede come proprie condizioni essenziali l'abolizione della proprietà privata e della famiglia. Tra l'altro, per Platone, l'abolizione della famiglia consente un altro effetto di unificazione, e cioè quello di superare la differenza fra i sessi. L'esistenza della famiglia comporta che le donne siano vincolate, chiuse dalle pareti domestiche e vincolate all'accudimento domestico, quindi prive di educazioni e quindi inferiori al sesso maschile. Soltanto se le donne venissero liberate dai vincoli della famiglia, e quindi potessero ricevere una educazione pari a quella degli uomini, allora esse potrebbero comportarsi come gli uomini, avere la stessa preparazione ed essere quindi in condizione di svolgere le stesse funzioni anche di governo. Come avete visto già nei passi citati, e come Aristotele avrebbe rimproverato a Platone, nella direzione dell'unità della città e della comunità, Platone va molto oltre, spingendosi fino a pensare la comunità come in sostanza un unico macro individuo, di cui gli individui singoli sono come le parti, le dita, le orecchie, gli occhi, ma che appartengono a un unico insieme di anima e corpo, che è appunto la comunità. Quello che è stato chiamato un organicismo comunitario, in cui la comunità è appunto concepita come un unico organismo. Platone si spinge a dire che chi non è utile alla comunità per infermità fisiche o difetti morali, è inutile che viva, non è né nel suo interesse né nell'interesse pubblico che viva qualcuno che non è in grado di erogare un servizio significativo alla comunità cui appartiene. E la felicità, secondo Platone, anche la felicità degli individui è possibile solo se si appartiene a una comunità che nel suo insieme è felice. Nessuno può essere felice da solo. Si può essere felice soltanto come ricaduto e individuale di una felicità collettiva della comunità cui si appartiene. Perché è un'illusione che si possa raggiungere una condizione di benessere e di felicità nell'isolamento individuale. Dico questo, come dicevo, questo radicalismo comunitario di Platone avrebbe destato le critiche di una lunga tradizione di pensiero che comincia appunto con Aristotele. Per Aristotele, l'idea platonica di comunità politica è atopon. Atopon vuol dire una cosa che non ha nessun posto, che è incollocabile ed è assurdo. Perché è contro natura, secondo Aristotele. Perché confligge con la forma primaria di costruzione della identità umana, che secondo Aristotele si radica appunto in quella sfera del mio, in quella sfera del privato, che Platone voleva cancellare. Secondo Aristotele, ognuno di noi si può riconoscere solo se stesso in quanto può dire mio di una cerchia di cose. Mia moglie, mio figlio, la mia casa. Se si toglie questa possibilità di disegnare una sfera di appartenenze al soggetto, secondo Aristotele si dissolve il soggetto stesso. Per natura l'uomo è proprietario. Per natura l'uomo deve avere una sfera di affetti e di proprietà, che sono sue e solo sue. Tra famiglia e comunità politica non c'è per Aristotele quella contraddizione che invece vedeva Platone, perché la prima rappresenta il nucleo, il seme, a partire dalla quale si genera la seconda. La comunità politica è per Aristotele un luogo pluralistico di scambi, di beni e di prestazioni tra famiglie e individui diversi. Questa è una concezione che ha dominato nei secoli il pensiero politico ed è arrivata fino al liberalismo moderno. Hegel stesso poneva in contrapposizione l'aspetto privato familiare con l'aspetto statale, ma crede, pensava che entrambi i momenti fossero parimenti necessari nella sintesi dialettica che portava allo Stato, e rimproverava appunto Platone di aver trascurato la dimensione privata e individuale a tutto vantaggio di quella politica collettiva. Un filosofo tedesco contemporaneo come Gadamer, lo cito, ha considerato la produzione platonica come una provocazione lanciata alla moderna coscienza cristiana e liberale dell'umanesimo, e pensava perciò che questa produzione platonica non potesse venire presa alla lettera, dovesse essere interpretata o come un'ironia o come un puro mito utopistico. A queste critiche, che sono fondate, che cominciano da Aristotele e finiscono appunto al pensiero liberal democratico contemporaneo, che cosa avrebbe potuto rispondere Platone? Immaginiamo che Platone avesse, in parte queste critiche le ha sentite, perché Aristotele certamente gliele faceva già all'interno dell'accademia, della scuola di Platone, ma immaginiamo che Platone, il ridevivo, possa, potesse raccogliere questo coro di critiche circa la innaturalità, l'aspetto contro natura del suo progetto utopico. Cosa avrebbe potuto rispondere e che cosa in effetti in parte ha risposto, perché molte di queste critiche sono anticipate da Platone. La prima risposta è ovvia, e consiste nella constatazione che le comunità politiche fondate sulla privatezza individuale e familiare non hanno mai potuto essere veramente unite, cioè esenti da conflitti, e che sono sempre stati incapaci di esprimere un potere giusto, un buon governo della vita individuale e collettiva. Hanno sempre espresso governi di fazioni, governi dei ricchi contro i poveri, governi dei poveri contro i ricchi, governi aristocratici o governi democratici. Mai un governo che fosse della comunità in quanto tale. E allora Platone sosteneva che la forma di comunità organica che lui aveva in mente presentava, diciamo, una necessità di tipo condizionale. Se vogliamo ottenere la concordia civile e un potere giusto che assicuri una giusta vita della comunità, allora occorre sperimentare questo modello comunitario. Altrimenti, dalla privatezza degli interessi patrimoniali e dei legami effettivi, avrebbe continuato a rigermogliare il seme della violenza e dell'ingiustizia. Però c'è una risposta platonica più forte, che non è soltanto quella della constatazione di un fallimento del progetto di una comunità politica come quella della Polis. Che percorre un percorso più lungo ed è una risposta che è più difficile da confutare da parte del punto di vista aristotelico e che in un certo senso mostra la debolezza del punto di vista aristotelico. Questa risposta platonica non ha più a che fare con la dimensione immediatamente politica, ma con la dimensione diciamo della costruzione psicologica dell'individuo. Fra comunità politica e anima individuale c'è un circolo, come vedremo, molto forte, secondo Platone. Allora, la teoria psicologica di Platone è che l'io non sia una entità omogenea ed esente da conflitti. Anzi, un'analisi della vita psicologica di chiunque dimostra che noi siamo il teatro di conflitti tra istanze diverse e contrapposte tra di loro. Questa teoria che Platone sviluppa nel libro IV della Repubblica è stata in larga parte ripresa nella modernità da Freud. Noi siamo diciamo lacerati tra un'istanza dice Platone razionale che progetterebbe una condotta dell'individuo conforme a un piano di valori universali stabili e istanze irrazionali che portano a preme che premono da un lato per la nostra affermazione contro gli altri cioè per l'ambizione il desiderio di successo il desiderio di competizione e di vittoria quindi per affermare il nostro io contro gli altri e non nella collaborazione comunitaria e dall'altro lato ancora per soddisfare la richiesta di piaceri corporei il sesso il cibo il vino e così via abbiamo quindi dentro di noi una serie di pulsioni razionali che ci spingono sia alla competizione all'aggressività sia al perseguimento dei piaceri il principio razionale dovrebbe governare queste pulsioni ma non sempre anzi raramente è in grado di farlo allora ognuno di noi è teatro di un conflitto ma questi conflitti che si svolgono all'interno di ognuno di noi si proiettano inevitabilmente sulla scena sociale e sulla scena sociale prendono la forma di lotta per il potere per le ricchezze per il piacere la dimensione pubblica diventa uno strumento destinato a soddisfare le passioni private dei vincitori del conflitto politico e qui il circolo diventa vizioso perché se noi usiamo la dimensione pubblica come luogo per affermare le nostre passioni private e personali quelle passioni irrazionali che ci spingono ad agire è chiaro che a sua volta una dimensione pubblica una scena sociale in cui sia così esibito il conflitto per il potere per la ricchezza per il dominio per il piacere rinforza le nostre istanze psichiche irrazionali vivere in una comunità in cui i principi dominanti sono quelli della competizione della sopraffazione del più forte della ricerca del piacere non fa altro che confermare nell'apparato psichico di uno di noi la forza delle pulsioni irrazionali dunque secondo Platone non è contro natura il suo progetto di costruire una comunità razionale che possa servire come dire da protesi esterna per sostenere la razionalità nei singoli individui contro natura è l'idea che il mondo sia composto di individui razionali pacificati al proprio interno e quindi in grado di costruire una comunità armonica e razionale no il conflitto si riproduce continuamente all'interno di ognuno di noi e dall'interno di ognuno di noi si proietta continuamente sulla scena sociale a meno che la dimensione della comunità non sia in grado di diventare una dimensione terapeutica cioè una dimensione razionale razionalmente governata che aiuti anche ognuno di noi a riportare dentro di sé il governo della ragione bisogna costruirla questa comunità dicevo è un artefatto che certamente va contro la natura umana nel senso che aveva ragione Aristotele se la natura umana è la natura di un soggetto conflittuale in cui prevagono le istanze irrazionali questo progetto invece di una comunità razionalmente governata va contro la natura umana nella direzione di una perfettibilità di un miglior governo della vita e quindi di una vita più felice e dicevo ci devono essere degli artigiani capaci di costruire questo manufatto che è la comunità politica giusta questi artigiani devono costituire una elite non può trattarsi di una comunità nel suo insieme quindi qui bisogna fare chiarezza su un paio di cose gli uomini non nascono uguali secondo Platone il mondo l'esperienza ci danno immediatamente la certezza che gli uomini presentano una grande differenza di dotazione intellettuale e morale la natura non ci consegna uomini uguali e perfetti ci sono quelli migliori a quelli meno dotati l'eguaglianza è un compito da realizzare non è un dato di fatto da cui partire la struttura psicologica della maggioranza della grande maggioranza degli uomini è tale da renderli appunto dominio delle passioni irrazionali il compito è quello che una città ben governata possa aiutarli a modificare questo equilibrio interno l'eguaglianza quindi è non è un dato di partenza ma è un compito il libro nono della repubblica presenta una metafora illuminante i bambini dice Platone hanno bisogno della guida del padre e del maestro finché raggiunta la loro maggiore età possono essere considerati uguali e quindi lasciati liberi di decidere di per sé qualcosa del genere accade per un concetto strettamente connesso a quello di uguaglianza che è quello di democrazia cioè di autogoverno di autogoverno popolare la democrazia non è secondo Platone un regime per minorenni non offendetevi non intendo minorenni in senso anagrafico intendo minorenni in senso intellettuale e morale non è un regime per minorenni e c'è una bella immagine del Gorgia che lo nel dialogo intitolato il Gorgia che lo spiega molto bene immaginiamo che di fronte a una tribunale di bambini golosi si presentino un pasticcere che propone loro di imbandire i suoi dolcetti che fanno naturalmente male e un medico che dica ragazzi qui bisogna prendersi una bella purga amara perché se no non vi ammalate o non guarite più per chi voterà questo tribunale di bambini golosi certamente voterà per il pasticcere e voterà contro il medico e questo esprime un circolo vizioso per cui la democrazia tende a diventare demagogia in cui i governanti tendono a come dire incoraggiare ad ulare i peggiori desideri dei loro governati per capirne il consenso e al contrario i governati consegnano il potere ai più seducenti fra i pasticceri della politica questo è il circolo vizioso per cui una democrazia di minorenni tende a trasformarsi in una demagogia e ripeto l'uguaglianza quella uguaglianza che consentirebbe una democrazia matura è un progetto da costruire ma non è un dato di fatto da qui da dare per scontato c'è dunque il problema di un'elite è un problema molto delicato e molto spinoso di un'elite che conduca avanti che porti avanti il progetto di costruzione della comunità giusta e qui sarò breve perché ho già preso molto tempo probabilmente voi sapete che Platone quando pensa a questa elite parla di un'elite di filosofi o filosofi re filosofi a potere i filosofi a cui pensa Platone non sono i filosofi di professione né del suo tempo e neanche del nostro per carità quelli che sono individui che ricevono che già devono presentare per conto loro delle doti intellettuali e morali straordinarie e che dovrebbero ricevere una formazione rigorosa quella a cui probabilmente Platone intendeva costruire con la sua scuola con l'accademia e questa elite di uomini dotati di una preparazione di doti di una preparazione straordinaria dovrebbero rappresentare appunto quel gruppo di abili artigiani che avendo in mente il progetto complessivo lavorano sul materiale grezzo della vita umana per trasformarla nel senso della costruzione di una comunità politica finalmente giusta e razionale i pericoli i problemi inerenti a questo a questo progetto sono stati fin troppo ampiamente discussi e criticati dalla tradizione chi controlla la elite chi può controllare questa elite chi ci garantisce che questa elite non diventi un gruppo tirannico un gruppo tirannico e sottratto appunto a ogni controllo che gestisce il potere nel proprio interesse e non in quello della comunità sono problemi aperti su cui su cui questo non preoccupava Platone ma può preoccupare noi non preoccupava Platone nel senso che essendo qualcuno profondamente convinto che possono trovarsi alcuni individui capaci di compiere questo questo di intraprendere questo compito che ci sono che sono reperibili e che si possono formare essendo convinto di questo non era preoccupato della degenerazione possibile del gruppo di governo ma non è illegittimo invece che altri se ne preoccupino finisco per con una considerazione che mi sembra importante Platone pensa che un progetto utopico come quello che ha delineato debba poter essere considerato realizzabile e pensa cioè che se fosse considerato impossibile per principio di realizzare sarebbe ridicolo e non varebbe la pena di perderci tempo in altri termini Platone pensa che una teoria normativa come la sua una teoria che stabilisce quali sono i valori i criteri della vita sociale debba avere anche una dimensione di efficacia debba avere anche presentarsi come tale da poter essere un giorno o l'altro tradotta sia pure parzialmente in azioni e in realtà tuttavia il progetto è tale per cui Platone non ritene possibile fissare né tempi né scadenze per la sua realizzazione c'è una frase nella Repubblica in cui si dice se nell'infinito tempo passato o in qualche paese a noi sconosciuto o in futuro possa accadere che quindi la dimensione diciamo la scala spazio-temporale dell'accadimento di questa società nuova di questa comunità politica giusta è lasciata aperta indefinitamente aperta però il progetto l'efficacia del progetto non è altrettanto indefinitamente dilazionabile Platone dice che questo progetto costituisce un paradigma in cielo cioè un'idea un'ideale kantiano noi potremmo dire forzando un po' i termini che è posto che è delineato e che chi lo vuole comprendere chi lo vuole pensare chi lo vuole condividere intellettualmente o moralmente lo fa già ora e subito e questa condivisione del modello e dell'ideale non produce immediatamente la società giusta ovviamente ma produce un'intenzione collettiva produce una costituisce un legame di una comunità di una comunità discorsiva di una comunità morale di una comunità intenzionale che non ha bisogno di attendere di attendere che nell'infinito tempo futuro si realizzi davvero quella società ma che in direzione di quella società esiste già qui ed ora quindi la figura di una società governata dai filosofi costituisce in un certo senso la proiezione al limite di quella forma di comunità giusta che è immediatamente possibile quella comunità che è formata da soggetti da persone che ricostruiscono moralmente se stessi e costruiscono un legame comunitario tra di loro nella critica alla società esistente dell'interesse e della prevaricazione nell'apertura a una comunità della ragione nella quale ognuno trovi intanto le ragioni per governare se stesso e le ragioni per una speranza di felicità che non può essere disgiunta da nessuna forma di progetto politico un progetto politico che non comporti anche una speranza di felicità collettiva dunque individuale non è un progetto politico presentabile diciamo ecco questa comunità questa comunità discorsiva questa comunità di intenzioni razionali e morali non ha bisogno di aspettare che si crei si realizzi l'utopia platonica è qualche cosa che può essere ogni giorno anche la nostra e che in qualche misura noi possiamo condividere ogni giorno nell'attesa e nel lavoro che è per costruire la realizzazione in qualche luogo dello spazio del tempo della comunità politica giusta grazie 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 a tutti